Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per perdita di carico tra Badia e B1 Variante in direzione nord. Ricordiamo inoltre che fino alle 18 per lavori è chiuso il tratto compreso tra B1 Variante e Pian del Voglio in direzione sud. Entrata consigliata verso Firenze e Pian del Voglio. Ci spostiamo in Fipili dove troviamo rallentamenti per incidente verso Firenze tra Ginestra e la Strassigna. Per lavori inoltre e rallentamenti verso Firenze tra Montelupo e Ginestra, in carreggiato opposta tra la Strassigna e Ginestra. Si tratta di interventi per il miglioramento della sicurezza con restringimenti percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cromo programma. Prima di salutarci per il traffico aereo segnaliamo numerose cancellazioni per sciopero, per gli voli in partenza e in arrivo da Firenze e da Pisa. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio!